sabato dinner dance siamo a marzo ragazzi le sorprese non finiscono qui un gruppo di matti dietro di amici che si stanno divertendo andremo a col boccone pieno ragazzi fantastico ho capito la metà delle parole però adesso te le facciamo ripetere ricomponiti sei pronto no come no allora tu sei io sono io tu sei tu ma quello che si sposa zio billy veramente sono contento come ti chiami arturo arturo rivida cagaduro dove cagaduro provincia di messina messina non la conoscevo in questa località ti sposi con luca luca dopo la canzone no no ma ti sposi ma ti sposi cosa mi tocca no 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 dopo tanti anni di servizio anche questo anche questo arturo ti chiedo perché ti chiami arturo cagaduro ah hai visto cagaduro toccaduro cagaduro ah ok allora ho capito bene arrivi da no che amici signore abbi pietà ma sai che tra poco arriverà l'8 marzo arriva l'8 marzo compiegare di mia moglie quindi miseria doppia feste la doppia festa come si chiama tua moglie grazie come si chiama ah sonia l'ha detto ragazzi l'abbiamo rubata l'informazione quando vi sposate 29 aprile quando 29 aprile sei contento? vabbè no dai su siamo una bambina abbiamo una bambina bellissima siamo bellissimi bravo così ti voglio oh passami no sonia sei una ragazza fortunatissima ho fame io hai fame? allora ti lasciamo ti salutiamo puoi salutare qualcuno? ci vediamo dopo ci vediamo dopo ci vediamo oh ciao